Oggi siamo su Hypixel, uno dei pochi server che ha aggiornato alla 1.9 Allora, non abbiamo deciso di fare un video sulla 1.9 perché l'hanno già fatto 864 miliardi di youtuber, tra cui Surry Stepney e chi ne ha più ne metta. Però, salve lei. No, no, combinazione di tasti permanente. Vabbè, oggi siamo qui per fare le Build Battle Team. Quindi clicco sopra. Sì? Ho detto clicco sopra. Sì? Ah, aiuto! Dove sono finito? Ok, guarda uno scogliattolo! Ah, guarda Christopher! Chi è Christopher? Christopher, Colombo. Eh, che... Sono in squadra con Ale per fare le Build Battle. Cosa succederà? Non lo so. Stiamo a Build Battle insieme. Oh, non voglio legno. Vattene via legno. Ehm... Legge... Oddio! Quanto lagga! Ok. Tu leggi qualcosa? Tank. Ah, tank. Un serbatoio. Un serbatoio. Sì, vabbè, ma chi è che... Ma chi è che è capace di fare questa roba, secondo te? Non lo so. Tu fai un qualcosa di decente. Allora, io sto fai... Tu fai il prossimo livello. E solo a noi può capitarci a parola serbatoio. Sì, no, veramente! Un serbatoio... Quattro minuti, wow! E non ho idea... E non ho idea... E non ho idea... Cos'è quella roba? Non lo so... Che cazzo facciamo? Che cazzo facciamo? Diamolo qua, perché... Ah no, non posso andare sotto in personale, ok? Alla roba. Che cifo è? È una vasca da bagno. E dopo facciamo... Allora, fai questo livello e facciamo quello sopra. Va bene... Ma io in creative non ci so ad usare! E neanche io. Non ho mai avuto quasi mai. E poi... Con shift si scende. No, ma l'hai fatto alto uguale! Ah, va bene, lo facciamo alto uguale. Ci facciamo alto. Water, water, water. Ecco, vai. Riempito acqua. E magari fa la kayishi, magari. E infine, volevo fare così io. Aspetta, ma non abbiamo tappato il fondo. No, non mettere... Non mettere due buchi, perché se no entrano. Manca un minuto! Chiudi, 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 chiudi. Rimaniamo dentro! Hai messo la lana? No! Aspetta. Metti la lana! Metti la lana! Metti la lana! Ok, fai tipo così? Perfetto, perfetto, è bellissimo, è bellissimo! Dai, le leve, che stiamo usando le leve! E poi... Che schifo! Ma hai bucato! Non si sta aggiornando la par... Ah, ok, il voting! E c'è l'acqua da tutte le pari! Cos'è questa? No, seriamente, cos'è? No, Tenka ha fatto il carro armato! Ah, ma vaffanculo! Che cos'è sta cosa? In Italia mi hai fatto il carro armato. Ma, ma super poop! Ma, 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 ma... Non vale, cioè! Ma questo è un carro armato! Ma caro armato... Questo è fantastico! Come ci chiama, caro armato? Questi sono dei tank, vedi? Questo è un italiano! Hai fatto dei tank! Dai, dai, epico! Ma cos'è? con l'esplosivo ecco l'osso con l'acqua che esce no che figo questo con l'alizia cos'è questa roba? l'alizia e vabbè questo era bello 14esimi eravamo 16esimi e dai proviamo un'altra dai c'entra meglio casa del tesoro allora innanzitutto io prendo l'oro aspetta aspetta prima di tutto plot 4 voglio mettere un blocco voglio mettere la sabbia send quella arancione perché fa figo cosa è la casa del tesoro la cassa del tesoro è la cassa è treasure chest ah ma in Italia non c'è scritto casa del tesoro sì infatti ma dai ma che coglioni non sono in italiano ma là ma là io faccio le palme quindi che legno va bene la caccia faccio da questo legno per la cassa sì tu fai no tu fai tipo la X fai la X tipo cassa del tesoro no la cassa proprio a meno che facciamo che fuoriesce dalla sabbia ancora un po' dentro io mi occupo un po' della vegetazione ma ci piegano gli anni a fare le palme così ma che lo stai vedendo e fai un po' più alte ma fai così guarda è tutto fatto con questo legno è schifo vedi è un po' così e dopo rompi il blocco qua e le fai un po' così hai capito? e così le fai molto più alte cioè così? è una palma questa qua e le fai molto più alte no non con l'erba come? con legno ma come faccio a fare le foglie? volevo sapere io ma che le fai così? quando sei sulla punta fai qua poi tipo sotto così questo lo togli e questo no perché togli tutto? eh perché ne devo fare il log? ragino tipo scale tipo verso il basso sono guarda come queste scale è qua ah ok ok va bene ho capito tu fai la cosa va abbiamo 4 minuti se io riuscirò a fare una palma fatta giusto con questo scrigno è un po' dei poveri c'è la crisi cosa fai lo scrigno dei ricchi oddio prende quel non so che di esotico facciamo un paio di foglie a cazzo ho capito va benissimo ah i maniglioni i maniglioni è vero i maniglioni le maniglie dell'amore le maniglie dell'amore e di non rompere ah ha detto dove sei conti che stai facendo tu? la X del tesoro eh? ok vai ah ho sbagliato no veloce con cosa tempo con cosa tempo con cosa tempo con la terra che merda è oh è bello è bello oh ah perché si scrivi no guarda che bello il mio scrigno le vado anche le maniglie cos'è sta merda ma cos'è e va che schifo beh super vabbè cosa c'entri cosa c'entra eh questo è è cosa ma cosa c'entra e questo ha fatto un boh ah non è no dai è schifo vado una scatola non è anche una scatola ci sono delle cose a caso gli smeraldi gli smeraldi potevano pensarci è vero gli smeraldi si oro e smeraldi ma sta roba ma che schifo è questa non l'ho capita seriamente ma fa schifo abbiamo vinto abbiamo vinto mamma mia la prima volta non ci ho mai mai giocato a queste cose mamma mia mamma mia guardate che la vincevamo con la mia cassa sì sì no hai fatto tutto tu cioè io ho messo gli arbusti non penso che gli arbusti abbiano fatto vincere ecco c'è cos'è aeroplano oddio ma siamo siamo arrivati tipo che si schianta sì cose belle cose belle no no facciamo qualcosa di più di più semplice perché se no dopo fai le cose difficili c'è un aeroplanino beh questo ragazzi non è semplice ma tu da dove stai partendo a fare l'aereo la coda ok dalla coda prendi anche io gli iron ora gli iron block aspetta una coda non è così cioè nel senso è fatta così la coda non so farla tu che non so come la coda non so come la coda degli aerei stupo hai fatto un aereo beh no domani lo prendo domani lo compro no no prendo vado sull'aereo domani ah non lo compri no no compralo è più divertente mi fanno bene le ali sì dopo pensiamo ai dettagli fisici del senso tipo sto aereo non può volare mai nella vita però sono dettagli fisici quelli allora però qua sai cosi c'hai i reattori i reattori sì ce li ha qua ti aspetta qua sotto le ali o sopra sotto ah non ne hai fatto un muso però Ale eh guardate ci penso io tu fai i reattori al posto degli iron sto prendendo il vetro capito no ce l'ho io ce l'ho io al posto dell'iron nei reattori mettici la lana così differenzi un po' dalla struttura no ma il vetro mettilo nero che è più figo metto oscurato oh beh dai c'è le cose easy ma capito cosa vuoi fare al posto degli iron dove ci sono i reattori metti la lana la lana bianca tipo la tutta la lana ah ok è una balena lo chiamerò il Moby Dick 2000 facciamogli un po' questo perché metto le particelle dietro metto le particelle dietro io metto il fuoco si metti il fuoco si vai ci sto no il cargo aperto dietro mi fa schifo mettine tanto anche ai reattori ai reattori ai reattori alle le torce dove va dove in caso ti pare le torce è vero ci sia capito aspetta 3 2 1 ok lo metto un po' a caso però mamma mia dai dai votatelo votatelo un giulo che c'ha a mano leggendari dai dai leggendari mettilo anche tu in mano non puoi votarlo il tuo eh questo è bello ok dai good ti do è tipo un aliante oddio cos'è sta cosa è un cubo è un aereo è un cubo senza un ala questo è ok no anzi good ma non ce l'ho fatta questo è un schifo questo è il moby dick 3.0 ancora ok dai con anche le scale questa c'ha cos'è sta roba no dai dai malisci è più o meno eh più o meno ok ti ha vinto? perzi perzi noi vai questo era figo perzi noi vai sì questo era figo era figo questo gli ho dato goodio stavi anche le nuvolette sui mettevano le nuvolette vincevamo eh ma il nostro stava decollando cioè eh ma le nuvolette vincono arriva una parola c'è un figo oh c'è Marco Scroo c'è Marco Scroo dove 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 c'è Marco Scroo c'è Marco Scroo c'è Marco Scroo c'è Marco Scroo dove ma hai visto la schina hai visto il nome c'è Marco Scroo poi mettiamo anche i diamanti in alto tipo ah più lì facciamo l'idolo tipo lì fa un culo la variccia no poveri ok sì anche no fallo normale fallo in legno nasci di legno lavorato ok vorrei farla a k tipo la k k di king ah sì sembra una k così sì dai farla un po' più k usa big yeah e magari un po' di blocchi dai braccioli braccioli ben dimentico di braccioli è vero falli tu ok cosa può mancare braccioli poi io adesso faccio bene faccio bene i braccioli adesso ma cambia il pavimento metti tutto bianco tipo e fai i cosi e fai il tappeto rosso di quarzo quindi sì fai tipo di quarzo e fai il tappeto rosso che va fino al trono sto dicendo i braccioli eh sì li ho finiti penso direi che ci siamo permettiamoci ci vuoi allargare ancora un po' il tappeto diamantini ah ok bravo 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 diamantini non fa mai male vai ragazzi è bello bello è bello sì bello sì da più senza dell'entrata ok va bene pensi qua ah no pensavo oh cosa è figo figo con la barba sembra babbo natale però sembra babbo natale oh di quanto c'è il nostro ah ok è nostro non puoi vedere leggendari 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 è tutto è tutto cos'è questo qua è coso è re com'è che si chiama quello che trasforma tutto in oro è coso coso su ho capito eh non mi viene non mi viene quando mi vorrà oh mira cos'era dove è il trono oh è qua corri corri good dai cos'è figo good è tipo una cosa maia un trono maia qua ci sono delle linee qua ci sono delle linee ma non ha senso ma non ha senso sta roba questo sesti avvito sta cosa siamo arrivati sesti il trono del re è delle cose quindi ragazzi oggi ci faremo qua abbiamo deciso di accontattarvi che ci avete chiesto tantissimi di iniziare a fare i minigames abbiamo iniziato con le build battle nel prossimo episodio magari faremo le sky wars oppure anche le bad wars che sono molto belle quindi ragazzi se il video è piaciuto lasciate un commento mettete mi piace iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video quindi bella ragazzi oh insincrono però cioè